educa i bambini e non sarà più necessario punire gli uomini diceva Pitagora se è così sembra avere il destino insegnato il figlio di quella coppia che è corsa a scuola a picchiare l'insegnante colpevole di avere sgridato il loro bambino se Pitagora aveva ragione se l'esempio dei genitori ha un valore educativo allora quel povero bambino ha ottime possibilità di diventare un criminale o perlomeno un adulto violento un energumero pronto a risolvere qualunque controversa menando le mani la vicenda è avvenuta in una scuola media di avola in sicilia pochi chilometri da sieracusa ce ne siamo occupati questa mattina i carabinieri chiamati dalla scuola chiamano parlano di un robusto rimbrotto del professore ragazzo perché esuberante all'invito a smetterla di fare chiasso il ragazzino avrebbe reagito con un insulto il professore lo avrebbe redarguito severamente il ragazzino a quel punto ha telefonato ai genitori che sono accorsi immediatamente risultato il professore è dovuto ricorrere alle cure mediche dieci giorni di prognosi per una costola rotta i genitori dell'alunno si sono beccati una denuncia per lesioni personale interruzione di servizio pubblico perché l'aggressione è avvenuta in aula sotto lo sguardo spaventato di tutti gli allunni non è il primo nell'ultimo caso di aggressione a un insegnante da parte dei genitori di alluni bisogna dire le cronache locali sono piene di casi del genere tempo fa michele rocigno professore di matematica di un liceo scientifico di matera ci ha rimesso una spalla 30 giorni di prognosi dopo essere stato aggredito dal padre di un'alunna che non andava bene a scuola a catania il professor domenico marletta è stato aggredito davanti alla classe a calci e pugni dalla mamma e dal fratello di un alunno che era stata sgridata a palermo un professore ha espulso da laurea un alunno indisciplinato ed è stato aggredito e malmenato dai genitori del ragazzo in un istituto alberghiero dell'interland di cagliari un insegnante è stata picchiata da uno studente che era stato rimproverato perché usava il cellulare in classe come si spiega non so come andava a voi ma se prendevo un brutto voto o se venivo rimproverato dai miei insegnanti la mia vera paura era comunicarlo a casa perché ai rimproveri scolastici si sarebbero aggiunti poi quelli paterni ed era giusto era normale che fosse così i presidi educativi della vita dei giovani sono due quello della famiglia e quello della scuola in un mondo virtuoso questi due sistemi collaborano tra loro si parlano interagiscono perché tutti e due concorrono a un unico progetto a un unico obiettivo contribuire alla crescita armonica di un individuo farlo diventare una persona responsabile consapevole matura magari anche colta in grado di affrontare al meglio le sfide della vita non c'è retorica in questo lo sanno bene quelli che hanno avuto una buona formazione poi si affrontano meglio le prove non soltanto quelle professionali ma anche quelle che incontreremo lungo il percorso della nostra esistenza in definitiva una buona scolarizzazione ci aiuta a diventare cittadini migliori i buoni insegnamenti sono come semi sedimentano producono frutti danno risultati quando questi due presidi fondamentali della vita di un bambino scuola e famiglia entrano in conflitto a rimetterci sono i giovani federico bianchi di castelbianco psicologo dell'età evolutiva più volte nostro ospite qui negli studi di uno mattina la spiega così siamo passati da una società normativa a una società affettiva che vuol dire significa che la nostra generazione è cresciuta nel rispetto delle regole non che noi le regole non le violassimo sia chiaro ma sapevamo poi di doverne affrontare le conseguenze eravamo consapevoli che se prendevamo brutto voto se ci comportavamo male a scuola poi non avevamo scampo perché i nostri genitori non avrebbero attribuito la colpa ai professori ma noi che non avevamo studiato non c'eravamo comportati bene adesso invece si privilegia la relazione parentale se vai male di sicuro colpa dei professori che sono incapaci e qui veniamo all'altro aspetto del problema la perdita di peso sociale dell'intero corpo docente del nostro paese un tempo gli insegnanti erano un architrave fondante della comunità era evidente che una società che aspirava a crescere doveva investire nel suo sistema educativo la scuola pubblica italiana era e per tanti aspetti rimane ancora una delle migliori del mondo ma il peso specifico degli insegnanti è andato via via perdendosi i loro salari hanno perso potere d'acquisto insieme a quelli di tutta la classe media del nostro paese se un tempo fare il professore un lavoro prestigioso oggi appare come il ricorso di chi non ha trovato di meglio una vita piegata sui libri continui corsi di aggiornamento per poi portare a casa tra i peggiori stipendi d'europa della categoria quasi la metà di un collega tedesco di un collega francese eppure se andate in certi quartieri complicati di tante città italiane le scuole restano lì come presidio formidabile di civiltà un baluardo di progresso ci troverete insegnanti straordinari pronti a farsi in quattro anche fuori dal normale orario di lavoro per strappare ragazzi difficili al richiamo della strada e gente quella che ci crede ancora e per questo che occorrerebbe sostenere la nostra scuola i nostri insegnanti fanno un lavoro straordinario sul quale verrebbe la pena di investire sempre di più lo so che costa ma come diceva qualcuno se pensate che l'istruzione sia costosa provate un po con l'ignoranza